Buongiorno a tutti. Appena risistemata via del Boschetto è già il centro di polemiche a causa della sua supposta pericolosità soprattutto per i ciclisti che per accedere alla ciclabile provenendo da Viale Padova devono tagliare la carreggiata passando dal lato destro al lato sinistro della stessa. All'uscita della ciclabile in Viale Tirreno gli stessi ciclisti si ritrovano a transitare contromano in una zona di vita parcheggio dove le auto fanno manovra. Come fa notare il consigliere della Lega Dolphin la strada si restringe arrivando nei pressi della casa di riposo e a separare la carreggiata dalla pista ciclabile sono stati posizionati degli archetti in modo discontinuo. Come ribadisce il consigliere la strada per il cui rifacimento sono stati spesi 134 mila euro a breve potrebbe rimanere inutilizzata non appena sarà sistemata l'area dell'ex batteria Forte Penso. Considerando la via del Boschetto un'arteria cittadina essenziale ci si chiede anche se in questo rifacimento sia stata tenuta in considerazione la necessità di il transito di mezzi di soccorso in situazioni di emergenza in un tratto di strada così stretto. La zona inoltre deve ancora essere liberata da ciò che resta della discoteca che è stata parzialmente ridotta in macerie nella fase di allargamento del primo tratto della carreggiata. Lo leggo da Chioggia Azzurra. A Chioggia sembra che ci si stia rendendo conto di una situazione di degrado che sta coinvolgendo i comportamenti di parte della popolazione clodiense. C'è chi parcheggia qualsiasi mezzo in qualsiasi luogo disponibile, chi transita con bici e moto sui punti storici per non allungare la strada più del necessario, chi si ostina a non raccogliere i bisogni del cane si potrebbe andare avanti così. Un altro comportamento poco corretto sarà invece protagonista di un'interrogazione nel prossimo consiglio comunale che verrà rappresentata da parte del capogruppo di Forza Italia Boscolo Beniamino e si tratta dell'utilizzo di bici, sedie, cassetti dell'acqua e altri oggetti messi tra le calli e lungole fondamenta per tenere il posto alla vettura momentaneamente assente, come un tempo si usava a fare mettendo il cappello l'ombrello sul posto a sedere nel treno. Sono comportamenti non leciti, spesso causa di litigi nel caso in cui qualcuno osi spostare il segnaposto per poter parcheggiare liberamente, come dovrebbe essere diritto, senza correre il rischio di avere la macchina danneggiata o ritrovarsi lo scooter con la sella tagliata. Con questa interrogazione Beniamino intende chiedere un maggior decoro attraverso regolamenti, controlli e conseguenti sanzioni. La situazione di degrado attuale è probabilmente dovuta proprio alla mancanza dei controlli di presidio nel centro storico di Chioggia, come in alcune zone di sottomarina vecchia, che permette ad alcuni residenti di tenere comportamenti prepotenti nei confronti di vicini e delle persone in transito. Lo leggo dal blog di Chioggia Azzurra. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria D'Aleo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17 anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. Nel progetto Chioggia candidata per diventare la capitale della cultura nel 2024, molti sono le persone entusiaste ma ancora di più purtroppo sono gli scettici che accanto alle bellezze del territorio e la sua storia e le sue offerte, vede tutte le criticità. Una città che si sente dimenticata da regione e dalla provincia, criticità legate soprattutto alla mancanza di collegamenti con la terra ferma, a cominciare dalla ferrovia per la quale si sperava un potenziamento ma sulla quale stanno emergendo idee di depotenziamento e dalla Romea per le quali sono state drasticamente tagliati finanziamenti, frequentemente sottoposti ai lavori di manutenzione strutturale che diventa causa di rallentamenti. Il progetto dell'iniziativa Chioggia Capitale Cultura 2024 verrà pubblicato il 15 aprile. Vuole coinvolgere tutta la cittadinanza in modo trasversale oltre a tutte le categorie economiche. Lo leggo da Polesine24.it. SST aderirà al bando regionale che finanzia assunzioni temporanee per progetti di utilità pubblica. Per farlo necessita di collaboratori operativi tra le organizzazioni senza scopo di lucro, cioè fondazioni, sindacati, consorzi, cooperative e sociali, che potranno presentare una manifestazione di interesse. Chi vorrà aderire dovrà presentare una PEC all'indirizzo a tempo fino alle ore 10 del 19 marzo prossimo 21. Lo leggo dal blog Chioggia Azzurra. Allora, ieri mattina Alessandro Ferro ha incontrato il prefetto di Venezia Vittorio Zappaloorto per spiegare nel dettaglio le difficoltà di gestione della macchina comunale che sta funzionando col 25 per cento del personale in meno. Il prefetto ha promesso di coinvolgere il ministero degli interni per capire se ci siano soluzioni, affermando però che si tratta di un problema comune a molti enti e di difficile soluzione. Il blocco degli assunzioni degli anni passati, i pensionamenti anticipati dovuti a quota 100 e lo stop a concorsi a causa del covid hanno provocato l'uscita di 56 dipendenti che non sono stati reintegrati. La quasi paralisi o i forti rallentamenti di molti uffici sono quindi dovuti alla mancanza di organico. Con i concorsi dello scorso anno si sarebbero dovute aggiungere 15 persone, invece il blocco non è arrivato nessuno. Lo leggo dalle pagine della Nuova Venezia in Edicola Oggi. Due mesi di senso unico alternato sul ponte della Romea per poter, quello sul Brenta, per poter eseguire i lavori un mese solamente se l'azienda potrà lavorare anche di notte. Questa è la promessa che il sindaco Alessandro Ferro ha strappato ieri sulla riunione per quanto riguarda appunto i lavori che sono fatti sul ponte. Le promesse dovranno reggere non soltanto alla prova dei fatti ma anche alle proteste dei sindaci di Cavarzer e Dadea che non sono stati interpellati per la deviazione, preoccupati soprattutto dal traffico pesante che si potrebbe spostare attraverso le loro strade di competenza. Il sindaco Ferro ha affermato di aver richiesto ad Anas di posticipare i lavori a stagione turistica terminata ma ciò non è stato possibile perché erano troppi rinvii e l'azienda in questo momento è pronta a lavorare. Comunque Anas ha promesso di poter eseguire i lavori nei tempi più brevi possibili. Bisogna vedere quindi anche l'azienda se è disponibile, l'impresa se è disponibile a lavorare anche in orario notturno. Si presume un tempo medio di attesa di 5 minuti considerando anche uno spostamento del traffico pesante sulla strada che attraversa Cavarzer e Dadea. A riguardo i sindaci non sono stati interpellati a proposito. La deviazione è consigliata e non obbligata ma chiederanno un incontro urgente a cui possano partecipare anche i proprietari delle strade per cui regione e città metropolitana. Si lamentano che le cose non possono essere fatte senza avvertire. Ferro ha poi posto il problema delle pensiline di Sant'Anna la cui realizzazione si è fermata. La leggo dalle pagine del Gazzettino di Venezia in Edicola Oggi. È cominciato ieri il processo alla cittadella della giustizia piazzale Roma per due casertani accusato di aver favorito la latitanza di un presunto boss della Camorra qua a Sottomarina. Il primo accusato di aver reperito un appartamento al terzo piano di un condominio in via Colombo il secondo di aver vissuto convissuto con lui dichiarando però ai carabinieri nel momento del controllo di vivere da solo. Il boss è accusato per associazione a delinquere di stampo mafioso. Aveva trovato appunto ospitalità da questi concittadini campani insospettabili che erano saliti al nord per motivi di lavoro. Sottomarina sarebbe dovuto essere un punto di passaggio anche se il ritrovamento di una valigia con 7.000 euro facevano pensare a una latitanza lunga. Al momento del blitz appunto quello che gli dava ospitalità dichiarò ai carabinieri di abitare da solo nell'appartamento giustificando la tavola apparecchiata per due con la visita di un amico che si era appena assentato. I carabinieri hanno cominciato a perquisire l'appartamento trovando il boss chiuso, il presunto boss nascosto dentro un armadio. L'azione fu possibile grazie ai carabinieri di Napoli che vennero impegnati nelle indagini e che si fecero aiutare dai militari di Chioggia. Lo leggo dal gazzettino di Venezia e ne dico là oggi. Anche a Chioggia, presso parco commerciale Clodì, puoi acquistare il tuo mezzo di trasporto del futuro. I migliori prodotti del mercato e a costi contenuti. Per informazioni visita il sito www.motozone.it o chiedi informazioni via email info-motozone.it. Ieri, in serata, la Regione Veneto ha approvato l'ordinanza emessa da Zai in tema disposizione in materia scolastica, attraverso la quale vengono adottate misure di adeguamento delle restrizioni precedenti. Fermarestando la possibilità di ogni singolo comune di intervenire a riguardo nel proprio territorio, ha ritenuto opportuno che la situazione epidemiologica venga posta sotto controllo in ogni singolo distretto sanitario. Evidenzia, in caso di alta soglia di contagio, la necessità di tenere lezioni a distanza. Il preavviso per la sua eseguzione deve essere non inferiore alle 48 ore e la durata del periodo di didattica a distanza non potrà essere inferiore ai 14 giorni. Resteranno in presenza i laboratori e le attività didattiche per gli studenti disabili o con bisogni educativi speciali. L'ordinanza sarà valida fino al 6 aprile 2021, salvo proroghe o modifiche. Lo leggo dalla Voce di Venezia. L'aumento dei contagi preoccupa anche il Veneto, ma per il momento non sono pensate microzone rosse per arginare le situazioni più pesanti. Tra le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico emerse nella riunione tenute sei ieri, affiora la necessità di restringere le misure contenitive con l'intento di diminuire drasticamente i contatti. Cercando notizie in internet, ieri ho trovato un articolo che riguarda un settore della nostra economia che lavora dando lustro al territorio. Si tratta del settore cantieristico e velico che, seppure non siano sotto gli occhi di tutti, agli onori delle cronache, si occupano di un comparto in crescita. Oltre alla Salen Riggins, che si occupa degli impianti velici, ho avuto modo di conoscere i cantieri navali di Chioggia, che nella sede di Chioggia in Val d'Ario ha ora completato uno scaffo, sovrastruttura, motori e generatori di uno yacht di oltre 36 metri, lo yacht Ducale 120, che è stato ora spostato nella sede di Venezia dove verrà completato. Potrà trasportare 10 ospiti più 7 membri dell'equipaggio oltre al capitano. Distribuito su 4 ponti, raggiungerà una velocità massima di 14 nodi. Sono 31 i verbali stilati dalla polizia locale di Mestre ieri per sanzionare altrettanti episodi di prostituzione, avente per protagoniste e adescatrici bulgare, rumene e cinesi, e clientela principalmente proveniente dai comuni limitrofi. Lo leggo dalla Voce di Venezia. Nuovo acquisto per l'Union Claudiense si tratta di Niccolò Pozzebon, classe 97, cresciuto nelle giovanili del Treviso e della Juventus. È stato ceduto dalla Forley Football Club, girone di Serie D. Lo leggo da TuttoSerieD. Ricordandovi che la farmacia di turno da oggi mercoledì 10 è alla Navicella in Viale Mediterraneo, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti! Ciao! 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 Ciao!